Perché dovrei lasciare Londra? Me lo sono domandato diverse volte durante il corso della mia vita e sinceramente mi sono dato anche tante risposte, ragion per quello condivido con voi e vediamo se eventualmente non rispondono. Uno dei motivi per i quali io lascerei Londra è senza ombra di dubbio il tempo. Sono una persona che ha bisogno di vedere la luce, ha bisogno di vedere il sole, ha bisogno del contatto umano e soprattutto ho bisogno di non avere la pioggia che mi batte costantemente sulla testa, mi dà fastidio, non c'ha faccia. Un motivo per il quale potrei lasciare Londra è il fatto che a me piacciono le giornate serene. Non mi piace andare di fretta, per niente. Potrei lasciare Londra per la poca flessibilità. Talvolta incontrerete a Londra tantissime persone che laddove trovano un problema non riescono ad andare oltre perché non gli è stato insegnato in quel modo e quindi non fanno niente. Io invece sono napoletano, io sono abituato a trovare soluzioni laddove ci sono dei problemi. Se ho trovato delle soluzioni a dei problemi invalicabili, figuriamoci delle cose di tutti i giorni. Potrei lasciare Londra perché mi manca terribilmente la mia famiglia, perché magari sono giunto alla conclusione del fatto che stare lontano dalla famiglia è qualcosa di molto brutto, perché ti perdi la quotidianità. Capisci negli anni che le persone che mi stanno invecchiando, sono cresciute, ti sei perso in qualcosa che inevitabilmente non tornerà più indietro. Ed è per scelta tua. Lasciamo stare poi se è una scelta obbligata. Però potrei tornare se pensassi a questo. È vero la famiglia si ha nel cuore, ma talvolta è importante anche averla tra le braccia. Potrei andarmene via da Londra se avessi il desiderio di cambiare il mio paese. Se avessi l'esigenza di incontrare delle persone, metterle tutte quante insieme e fare un qualcosa di estremamente positivo che rivoluzioni l'approccio dei miei connazionali. Potrei andarmene via da Londra se avessi un'alternativa in Italia. E seppure non avessi l'alternativa, ma avessi almeno l'idea per creare questa alternativa, allora sì me ne potrei andare via da Londra. Potrei andarmene via da Londra se lo Stato mi aiutasse a comprare una casa, io che non ho garanzie. Potrei andarmene via da Londra. Potrei andarmene via da Londra. Ma mi sa che non me ne vado via.